Alberto, intanto un commento su questa partita. Sapevamo che era una partita difficile, contro una prima in classifica, avevamo infatti voglia di confrontarci, di vedere come era giocare su questo campo, si è rivelata in effetti una partita tosta, loro bravi a strappare nel terzo quarto con tanta precisione, soprattutto dall'arco. Probabilmente avete pagato la falsa partenza, perché poi per il resto diciamo... Sì, che è una delle cose che sicuramente dobbiamo mettere a posto quando giochiamo, soprattutto in trasferta, c'è una discreta differenza tra le nostre prestazioni in casa e quelle in trasferta e questa è sicuramente una cosa su cui dobbiamo crescere e lavorare tanto. Quello che può essere il punto di partenza è che comunque la squadra non ha mai mollato e quindi sono dei ragazzi di carattere. Sì, su questo invece stiamo lentamente migliorando, non era facile soprattutto nel terzo quarto dove onestamente Arezzo è stata proprio chirurgica nel tiro da fuori, lì si poteva mollare, abbiamo continuato a lottare, a provare le nostre cose, quindi positivo. Adesso bisogna pensare al pronto riscatto nel prossimo turno. Sì, prossimo turno con Poggi Bonzi, una partita per noi importantissima che non dobbiamo sbagliare anche per mantenere l'imbattibilità casalinga. Grazie e buon lavoro. Grazie.